Benvenuti, nuova edizione del nostro telegiornale, grazie per aver scelto anche oggi l'informazione di nuova televisione. In apertura ci occupiamo del maltempo. Questa mattina, a differenza di altre zone della Sardegna, Oristano non si sono registrati disagitali da creare forte allarme. Da segnalare però, in particolare nella zona del Sacro Cuore, strade allagate a causa dei pozzetti e delle caditoie non pulite in modo accurato. Una squadra dei vigili del fuoco ha operato anche per mettere in sicurezza lo stabile che ospita la sede del Banco di Sardegna. La parte che si affaccia su Via Garibaldi è stata transennata, intervento necessario a causa della caduta di alcuni calcinacci dal tetto della struttura. ingenti invece i danni dovuti ai forti temporali delle ultime 48 ore ad Arborea e Cabras. Due notti fa i piani interrati e i magazzini della Labirdi sono finite sott'acqua, nessun problema fortunatamente, per gli oltre 600 ospiti della struttura alberghiera. Adesso ci occupiamo di politica locale. Ieri le parole del sindaco di Oristano Guido Tendas, che ha chiesto nuovamente fiducia alla sua maggioranza. Oggi abbiamo intervistato due portavoce dell'opposizione per sapere come commentano il terzo tentativo di andare in aula per approvare l'equilibrio di bilancio. Sentiamo un po'. Io credo che sia una situazione veramente inquietante. Guido, soprannominato ormai Guido Bostic, credo che abbia deciso in tutti i modi di restare attaccato a quella poltrona. Credo che sia una situazione veramente vergognosa e che non dà merito a questa città. Nella tradizione sarda perlomeno a un certo punto arriva un asinello e bisogna farci salire qualcuno. Io credo che Guido si stia veramente candidando a completare la sua consigliatura con questa metafora della tradizione sarda. Il sindaco ha dimostrato negli ultimi due mesi di non avere i numeri per approvare nulla, se non c'è appunto la benevolenza della minoranza cosiddetta. No, è un gioco al massacro. Nella riunione di ieri ho chiesto personalmente al sindaco quando intende porre fine a questa pagliacciata. Insomma, non ci vuole una laurea in filosofia per capire che lui ha, per capire che non ha più i numeri, non ci sono più le condizioni politiche. Questa è una crisi di tipo politico, non di tipo burocratico. Non è che il riequilibrio non viene approvato perché va bene e non va bene. Non viene approvato perché si vuole chiudere questa esperienza amministrativa. E sarebbe molto più dignitoso, oltre che per se stesso, anche per quei giovani di prima legislatura che lui si è portato dietro, non troncare questa carriera con questo giochetto al massacro che fa male a tutti e non risolve nessun problema per la città. È morto all'età di 95 anni Carlo Azzeglio Ciampi. Dal 1999 al 2006 è stato presidente della Repubblica. Per parecchi anni poi pure governatore della Banca d'Italia e presidente del Consiglio. Sentiamo il ricordo degli oristanesi. È morto Carlo Azzeglio Ciampi, il suo ricordo. Beh, un grande presidente sicuramente. Che ricordo ha di quel periodo? Ciampi, presidente della Repubblica. Beh, dunque il periodo, anche quel periodo non era proprio ottimale dal punto di vista economico, quindi diciamo ricordo inizio crisi. Mi è sembrato un buon presidente. Mi sembra l'inno nazionale che non si faceva più, tante altre cose. No, lo ricordo bene. E poi viene ricordato spesso anche per il passaggio all'euro. Eh sì, quella nota dolente però non potevamo fare diversamente. In questo lei la pensa come Salvini, una nota dolente il passaggio all'euro. Eh sì, penso che come la maggioranza delle persone pensiamo che sia aumentato tutto. che ricordo di questo presidente della Repubblica? Ma una persona vicina agli italiani, molto, diciamo, molto italiano nel suo fare, nel suo dire. Quel modo di essere vicino agli italiani penso che sia rimasto agli occhi di tutti, no? Cosa apprezzava di Ciampi lei maggiormente? Ma quando è stato presidente io vedevo una persona, un padre di famiglia, una persona molto seria, assennata, parecchio cristallino, ecco. Bravissimo, molto bravo, uno dei migliori presidenti. Cosa apprezzava maggiormente? La serietà e la correttezza. Non mi è piaciuto l'avvio all'euro fatto da lui e che secondo me ci lascia in queste condizioni. Lo ricordo più che altro come ministro dell'economia, del governo Prodi. Manovra economica per entrare nell'euro, un certo risanamento dei conti pubblici e un grande presidente. E lei cosa ricorda del presidente Ciampi? Un buon presidente della Repubblica, persona onesta, limpida. Cosa ha apprezzato maggiormente? No, la sua presidenza, la sua presa di posizione. Il Comune di Oristano mette in vendita l'asta, l'ex mercato ortofrutticola, l'ingrosso di Via Marconi, proprio all'ingresso della città. Il bando modificato prevede una base d'asta di 2 milioni e 95 mila euro per l'immobile che recentemente è stato bonificato dalla presenza di tettoie in cemento amianto. Con la modifica si garantisce il mantenimento della proprietà pubblica dell'area, retrostante l'ex mercato. Le offerte che dovranno essere presentate al Comune di Oristano entro il 17 ottobre 2016, mentre l'asta pubblica si terrà il 18 ottobre 2016. A Santa Giusta sono addirittura ad arrivo i lavori di realizzazione di due rotatorie che renderanno più scorrevole il traffico in entrata e in uscita dal Paese. Stiamo ultimando i lavori già a distanza brevissima di un anno, in cui abbiamo trovato le risorse, abbiamo preparato il progetto con l'Ufficio Tecnico Comunale, appaltato i lavori e oggi stiamo addirittura ad arrivo. Una viabilità che secondo me è molto importante, che snellisce e rende sicuramente più sicura le viabilità della via Garibaldi e della via Giovanni, che sono le due vie più frequentate all'interno del centro abitato, con la presenza di due rotonde che smisteranno il traffico in maniera, ripeto, molto più semplice e meno pericolosa. Sono sicuro che oltre ai santaggiustesi che si avvantaggeranno di questa nuova viabilità ci sarà un ringraziamento, diciamo così, anche da tutte quelle centinaia di auto che ogni giorno percorrono Santa Giusta e che dovevano affrontare quel tratto di strada pericoloso, per cui per immettersi dalla via Garibaldi verso la via Giovanni bisogna praticamente andare nel senso opposto in circolazione. Con la nuova viabilità tutto sarà più semplice e anche dal punto di vista del paesaggistico, diciamo così, sicuramente la nuova viabilità offre una nuova dimensione anche a chi passa per Santa Giusta. Adesso spazio alla nostra programmazione serale. Ritorna dopo la pausa estiva l'appuntamento del venerdì con Effetti Sonori. Ospite della trasmissione musicale curata da Alessandra Porcu e non dalle 21 e replica alle 23, l'Uristanese Marta Loddo. Vediamo una piccola anticipazione. Ho studiato musica da quando ero bambina, ho avuto un periodo in cui la musica l'ho odiata e non ne volevo sapere più di studiare musica, poi ho ripreso e ho iniziato a cantare, quest'anno sono i 20 anni di carriera, quando avevo 16-17 anni nelle varie band e poi qualche anno fa invece continuo a suonare con altre persone e qualche anno fa ho deciso di mettermi in proprio e siamo qui con il mio progettino. In chiusura allo sport ci occupiamo di pallavolo. Ora è ufficiale, l'ariette maschile parteciperà al campionato regionale di Serie C, allenatore sarà ancora il cubano Angel Beltran, lo abbiamo intervistato. Angel, ufficiale, l'iscrizione nel campionato di Serie C per l'ariette dopo la retrocessione dell'anno scorso, che programmi avete quest'anno? Sì, abbiamo iniziato un mattedì l'allenamento della Serie C perché la stagione è iniziata, quindi stiamo facendo la preparazione, anche se la federazione ha chiamato per fare la Serie B1, però per tanti motivi non la facciamo, solo la femminile fa la B1. E cosa ha convinto un giocatore della tua portata a rimanere, nonostante la Serie C? Sicuramente il pubblico, la società, tanti amici qui in Orestano, il gruppo dell'anno scorso che è rimasto per fare la Serie C. È rimasto lo stesso gruppo, qualcuno è partito? Hanno rimasto quasi la metà dell'anno scorso, più sono entrati cinque giovani. Con quale obiettivo? L'oggettivo vedremo, però una buona squadra, giovane e promettente. Con pure entrato Marco e Quinto hanno arrivato con noi, quindi vedremo. È una buona squadra. Il telegiornale si chiude qui, grazie per la cortese e attenzione e arrivederci. Grazie a tutti.